Ciao, sono Marco Ingegnere e vorrei parlarvi di un gioco free to play che, se non conoscete, dovete provare. World of Warships, un gioco di battaglie navali multiplayer nel quale potete comandare in prima persona una delle oltre 500 navi da guerra magnificamente ricreate in 3D, ognuna con caratteristiche e stili di gioco diversi. Potete prendere per esempio il timone della possente Yamato, della leggendaria Bismarck o della bellissima Roma. Tra le varie modalità di gioco vi posso consigliare le battaglie casuali in cui due squadre da 12 giocatori ciascuna cercano la vittoria su delle bellissime mappe realistiche. Provate anche voi World of Warships.